e proseguiamo questo ciclo di incontri organizzato a margine della mostra Ercole De Roberti e Lorenzo Costa che appunto analizza la prima parte del rinascimento ferrarese e questi giovedì, il settimo giovedì diciamo di approfondimento è proprio il momento per scandaliare, per dissodare, per mettere in luce alcuni temi, momenti e personaggi intimamente legati al tema, all'argomento di cui la mostra tratta e oggi abbiamo il piacere di avere con noi come relatore il dottor Marcello Toffanello che è curatore delle collezioni di arti figurative dal 300 al 500 e dall'800 presso le gare di estenze di Modena, Sassuolo e Ferrara dal 2012 al 2015 è stato funzionario storico dell'arte presso la soprintendenza di Modena a Reggio Emilia con competenza sulla metà orientale del territorio della provincia di Modena in precedenza è stato curatore a contratto delle gallerie d'arte moderne e contemporanea del comune di Ferrara ha tenuto poi corsi di museologia, teoria, storia del restauro e storia dell'arte rinascimentale italiana presso l'Università di Ferrara, Chieti, Pescara e la sede ferraresi del Council on International Educational Exchange i suoi principali ambiti di ricerca sono la pittura ferraresi del Rinascimento e dell'Ottocento con particolare interesse per la storia sociale dell'arte e la storia dell'esposizione d'arte antica in occasione della mostra Rinascimento a Ferrara, Ercole de Roberti e Lorenzo Costa che celebriamo in questo periodo, ha collaborato effettivamente al catalogo con un saggio Ercole e Lorenzo alla mostra del 1933 e ha redatto le schede dei dipinti prestati dalle gallerie estensi ha inoltre curato un percorso legato al tema della mostra fra le opere della Pinacoteca Nazionale di Ferrara una mostra, un percorso molto interessante che va a completare il discorso che inizia tra le sale espositive intitolato 4 contesti ferraresi per Ercole e Lorenzo e sta attualmente lavorando al catalogo scientifico dei dipinti del 3 e del 400 delle gallerie estensi di Modena ha scritto testi fondamentali per la storia dell'arte ferraresi tra i tanti mi piace sempre ricordare il volume proprio sugli artisti operanti a Ferrara per la corte estensa nel 400 che è un volume fondamentale per chiunque si approcci allo studio di questo periodo aureo della nostra città e oggi ci racconterà nel suo intervento gli ultimi anni dell'attività di Ercole de Roberti quindi tra il 1486 e il 1496 focalizzando le opere chiavi quindi gli cedo volentieri la parola non prima di ricordarvi che ci ritroveremo qui con i nostri giovedì il 4 maggio per un incontro incentrato sulle relazioni tra moda e pittura del 400 grazie al dottor Tofanello e buon ascolto a tutti io ringrazio sì vi sentite? perfetto allora io ringrazio per l'invito a questo bel ciclo di conferenze alle quali ho peraltro assistito finora in effetti ho preso molto seriamente l'invito che mi avevate fatto a conferenze di approfondimento temo troppo seriamente ne ho visto quando ho fatto il powerpoint la presentazione perché diversamente da chi ha parlato prima che ha fatto carrellate molto ampie mostrando molti dipinti io mi sono concentrato su poche opere su una serie di tre di fatto delle quali due esposte qui in galleria che però ritengo molto interessanti e quando infatti mi avete proposto di intervenire proprio perché le stavo studiando ho pensato fosse un argomento in cui ci sono certe opere che senza magari essere capolavori sono dei mondi che dicono molto del periodo in cui sono state realizzate e l'esperimento che vorrei fare oggi sperando di non annoiarvi troppo anche per niente se fosse possibile è quello proprio di guardare poche opere d'arte sotto diversi punti di vista bene partiamo dalla mostra visto che questa è la ragione per cui siamo qui parlerò appunto userò queste opere per parlare del rapporto tra Ercole De Roberti e Leonora d'Aragona a cui è dedicata una saletta che è tra le più belle della mostra ce ne sono diverse di molto belle questa è sicuramente una delle più preziose e forse quella più inaspettata io ho scritto il saggio sul catalogo del 33 della mostra del 33 e ci sono opere che all'epoca non riuscirono a venire la National Gallery di Londra che ha dei quadri fondamentali per l'ultimo periodo di Ercole De Roberti non presta molto raramente le opere qui invece ha prestato delle opere fondamentali proprio per l'ultimo decennio di Ercole De Roberti ultimo decennio di Ercole De Roberti che passa nella sua città natale perché come avete sentito da chi ha parlato prima di me Ercole va a Bologna e ritorna a Ferrara nel 1486 torna a Ferrara si dice prendendo il posto di cosmetura come pittore di corte ma possiamo dire che in realtà Ercole De Roberti è il primo vero pittore di corte in senso moderno a Ferrara prima qual era la situazione? che c'erano dei pittori decoratori pagati per fare i compiti più ripetitivi e sono ne conosciamo i nomi ma non riusciamo a associarne le opere Giovanni Trullo e pittori di questo genere che sono praticamente dovete pensare a quelli che dipingono le parti minori meno belle degli affreschi di Schifanoia poi c'erano grandi artisti tra cui il massimo era cosmetura che faceva i grandi progetti lo studiolo di Belfiore gli affreschi purtroppo persi in alcune delle delizie gli arazzi i disegni per gli arazzi che erano un genere suntuario estremamente costoso estremamente importante per una corte di fine 400 insomma queste opere più importanti Ercole De Roberti è il primo che sul modello di Mantegna che era diventato pittore a Mantua pittore di corte a Mantua appunto è una sorta di designer che fa tutto sovrintende le decorazioni più quotidiane ma progetta più che architetture direi ornati per architettura esegue grandi cicli grandi cicli ad affresco e così via il rapporto con Eleonora d'Aragona è particolarmente stretto infatti prima ancora di venire stipendiato di iniziare a ricevere lo stipendio nel 1487 che poi avrà fino alla morte di pittore di corte viene pagato viene rimborsato per l'azzurro oltremare un pigmento estremamente prezioso per un dipinto che sta facendo per Eleonora d'Aragona e anche successivamente è Ercole che cura e sovrintende la decorazione dei nuovi appartamenti in Castelvecchio e sono importanti e ne parleremo per la stessa duchessa che vi si era appena trasferiti ed è lui che tra il 1489 e il 1491 di nuovo coordina e lavora a un'equipe di artisti che prepara i corredi di nozze dei tre rampolli maggiori della famiglia estense di Isabella d'Este che va a sposa a Mantua con Francesco Gonzaga di Beatrice che va a Milano tutti ottimi matrimoni come vedete a sposare Ludovico il Moro e invece di Anna Sforza che da Milano viene a sposare il giovane Alfonso e la prima moglie prima di Lucrezia Borgia di quello che sarà Alfonso I quindi fa tutti questi tipi di lavori purtroppo di tutto questo c'è rimasto poco e niente come spesso capita nella pittura ferrarese del Quattrocento l'altra protagonista di questa nostra chiacchierata è Eleonora d'Aragona e Eleonora d'Aragona ha avuto una fortuna critica solo recentemente nel senso che le grandi duchesse ferraresi erano Ferraresi o Natia Ferranzo Meron Isabella d'Este Lucrezia Borgia e così via solo recentemente ci si è resi conto dell'importanza che ha avuto Eleonora alla fine del Quattrocento Eleonora è di ottima famiglia Aragona appunto era figlia di un re di Ferdinando I d'Aragona detto Ferrante re del regno di Napoli figlia di Isabella di Chiaromonte una nobile donna dalle grandi capacità anche intellettuali quindi aveva anche una madre molto importante che sicuramente le ha lasciato degli insegnamenti ed è noto che durante gli anni arriva nel 1473 a Ferrara si sposa con Ercole I nel 1473 e muore nel 1493 vent'anni nei quali di fatto lei è una specie di coregnante cioè regna a fianco di Ercole vi faccio vedere ecco ho scelto queste due immagini non a caso come vedete una è una miniatura tratta da un libro di Antonio Cornazzano che è uno dei due libri dedicati ho detto a sinistra quella a sinistra è la miniatura è uno dei libri uno dei tanti in realtà libri dedicati a Eleonora ma questo è proprio specificamente sull'arte del regnare come vedete la duchessa riceve il bastone del comando direttamente da una mano che è quella divina è un trattato che viene scritto probabilmente intorno al 1478 79 quando Ercole I che era un condottiere viene ingaggiato da Firenze e deve andare appunto a Firenze a guidare gli eserciti fuori città e il ducato rimane in mano a Eleonora d'Aragona che lo amministra benissimo non solo ma anche quando Ercole ritornerà Ercole era piuttosto assente non solo per lavoro diciamo ma gli piaceva molto star dietro come ci raccontano i suoi ufficiali star dietro ai pittori guardare costruire architetture non gli piaceva molto il lavoro del governo e Eleonora d'Aragona mantiene l'attività quotidiana riceve le suppliche controllo i conti dell'amministrazione era particolarmente religiosa quindi cura anche tutti questi aspetti di relazione con gli istituti con gli istituti religiosi vi faccio un po' di introduzione per capire il significato delle cose che andremo a vedere ci sono due momenti della vita di Isabella in cui lei salva il Ducato il primo è quando pochi mesi dopo aver dato alla luce finalmente l'eredio maschio l'eredio maschio dopo due femmine nel 1476 c'è il famoso tentativo di colpo di stato di Niccolò di Lionello che era il figlio appunto di Lionello e che riteneva di aver diritto al trono per cui cerca di prendere con la forza Ferrara e proprio anche di far fuori l'erede appena nato e qui Eleonora è rapidissima e fugge attraverso la via coperta che allora è solo un ponte di legno non è ancora la costruzione in castello ci sono le crone che ci raccontano mentre i Veleschi cioè i sostenitori della parte avversa le sfondano le porte che lei si chiude dietro per cercare di raggiungere duchessa e erede e prendere il potere questa corsa poi continua nel senso che quest'episodio che avviene appunto nel il 76 darà l'idea a Eleonora di trasferirsi in castello e di creare i suoi nuovi appartamenti in castello una cosa che è fondamentale perché fino allora il castello era stato una roccaforte ed è lei che dà l'inizio alla trasformazione del castello in palazzo principesco quindi la rivalutazione della stessa via coperta che poi come saprete con Alfonso diventerà fondamentale sede di collezioni e l'utilizzo del castello come appartamenti ducali e se vogliamo non so chi voi ha sentito la presentazione qualche settimana di Marco Folin del suo ultimo libro su Impinacoteca e anche il primo passaggio la prima estensione da un po' in là quella che sarà la grande espansione di Ercole primo d'est e l'addizione erculea verso il nord della città un altro momento in cui Eleonora è fondamentale durante la guerra del 1482-84 con Venezia che va malissimo i veneziani sono alle porte il ducato è sull'orlo del tracollo e anche il duca per la verità un po' perché si è preso la malaria un po' pare fosse proprio preso anche da una sorta di depressione di grave malinconia per l'andamento disastroso della guerra e chi regge il ducato in questo momento di crisi enorme è proprio Eleonora e questo le viene riconosciuto da tutte le cronache e da tutte le cronache quindi una donna estremamente forte a fianco della miniatura che vi mostro a sinistra vi mostro a destra una medaglia tutti e due provengono sono stati attribuiti tutti e due a Cosmetura che come vi dicevo era il pittore cosiddetto di corte prima dell'arrivo di Ercole d'Este quindi scusate di Ercole de Roberti quindi appartengono a un momento precedente quello di cui stiamo parlando molto probabilmente derivano tutti e due non sono di mano né l'una né l'altra di Ercole scusate di Cosmetura ma derivano da un disegno essendo appunto Cosmet quello che improntava col suo stile tutta l'arte fatta per la corte a Ferrara cosa in cui appunto sarà sostituito poi da da Ercole avete visto prima la sala sulla sulla sinistra vedete due dipinti in mostra che fanno parte di una serie assieme a un terzo che vi mostro qui che è quello che ho messo in questo caso al centro che non è venuto e che sta alla National Gallery di Washington sono tre dipinti che chiaramente fanno parte di un'unica serie lo capite dal fatto che due di essi ancora mantengono una cornice marmorea che fa sì che siano visti come attraverso una finestra lo si capisce anche dall'impostazione di questo piccolo palco teatrale con una tenda appesa sullo sfondo le dimensioni tolti che sono stati ritagliati come vedete in maniera diversa sono identiche e sono identici soprattutto i soggetti e sono come vedete tre soggetti femminili per l'esattezza tre donne dell'antichità siamo abbiamo detto negli anni 90 del 400 e questo non è affatto un tema consueto quindi spieghiamo prima i soggetti il primo dipinto in mostra che è quello che viene dalla galleria estense di Modena è la storia di Lucrezia Romana vi ho messo a fianco un testo che è il testo di Valerio Massimo un testo di Valerio Massimo che è uno scrittore del primo secolo dopo Cristo quindi uno scrittore romano che organizza una specie di prontuario scritto attraverso come posso dire organizzando le vite di importanti personaggi dell'antichità sia maschi che femmine sotto una virtù un particolare tipo di virtù che esse dimostrano questo testo è stato scritto già in origine nel primo secolo dopo Cristo proprio per gli oratori le scuole di oratoria e gli altri storici che vogliano avere delle fonti facilmente a disposizione è un testo che ha una grande fortuna si trova nella biblioteca estense sappiamo che gli estensi l'avevano in biblioteca appunto ed è ovviamente utilizzato da tutti gli umanisti quando i loro i cortigiani quando il loro signore gli chiede vorrei un ciclo in cui si dimostri quanto sono buono bello bravo e gli umanisti ricorrevano appunto a questo testo di Valerio Massimo che si chiama degli atti e dei fatti e dei detti mirabili nell'antichità proprio per trovare soggetti è uno dei pochi testi questo volume in cui tutte e tre queste donne compaiono quindi è molto probabile che questi soggetti siano stati scelti da questo testo come vedete la storia di Lucrezia è la storia di una di una donna che che era la moglie di di Tarquindi scusate di 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 Collatino moglie di Collatino che si vanta questo Collatino dico siamo nell'epoca dei re dei re di Roma Lucrezia viene stuprata da da Tarquigno il figlio di Tarquigno il superbo ultimo re di Roma con un con un inganno cioè viene gli viene detto non cede alla violenza ma Tarquigno la minaccia di ucciderla di farle trovare a fianco un servo uccidendo anche lui e di dire che l'aveva sorpresa in adulterio e solo per questo motivo cede cede alla violenza di 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 Tarquigno quando però Tarquigno se ne va denuncia raccoglie la famiglia chiama raccolta la famiglia denuncia la violenza subita e di colpo estrae da sotto il man da sotto l'abito il pugnale e e si uccide in questo in questo caso quindi cancellando cancellando l'onta 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 subita e per reazione a questo fatto i romani si ribellano e cacciano e cacciano e cacciano il re passando alla repubblica è quello che avete letto scritto più rapidamente in maniera sintetica a fianco del testo e a queste date non è un soggetto ancora molto molto diffuso lo diverrà molto popolare nel corso del del cinquecento soprattutto il momento appunto del suicidio lo diventerà però con un atteggiamento molto molto erotico come vedete da questo bellissimo dipinto del Sodoma che sta alla galleria di di Torino mentre vedete il dipinto ferrarese è tutto al contrario è un dipinto quasi dai toni stoici quasi stoici mentre questo è sarà un soggetto che diventerà comune molto erotico e che diventerà comune un po' per mostrare una donna senoscoperto solitamente associata a una Cleopatra l'una esempio di virtù positiva l'altra esempio di virtù negativa quindi di lussuria o altrimenti in questo soggetto un altro soggetto che viene raffigurato molto spesso è lo stupro subito appunto da da Tarquinio questo è un dipinto di Tiziano del Fitzwilliam Museum che siamo già alla fine del Cinquecento ne ha fatte diverse versioni di questo dipinto a dimostrare la fortuna appunto di questo soggetto l'altra donna che il dipinto trovate esposto qui in galleria è la figlia di Catone Uticense Porzia vi faccio sempre notare come vengono introdotte queste storie con lei che detiene il primato della pudicizia romana Lucrezia al cui animo virile toccò per maligno errore della sorte corpo muliebre cioè era una donna ma aveva un animo da uomo così venivano presentate e come vedete uguale Porzia altro esempio di virtù ebbe animo per nulla da femminetta come il padre quindi anche questa esaltazione delle donne non è un'esaltazione del genere ma è un'esaltazione di alcuni individui individue dotate di particolare virtù Porzia era la moglie di Brutto che le vedete a fianco della quale lo vedete e Brutto quando lei viene a sapere del progetto di Brutto di uccidere Giulio Cesare della congiura cosa che il marito a quanto pare non le aveva detto si fa prestare come vedete è una storia un po' complicata e anche un po' insensata questa si fa prestare un rasoio un coltello per dire che di volersi tagliare le unghie un rasoio da barbiere si ferisce a un piede o meglio si ferisce dicono le fonti non dicono esattamente dove quando le ancelle corrono acclamano e chiamano il marito brutto che la rimprovera e le dice ma cosa ti salta in mente di fare questo guarda ti sei tagliata dice non a caso io ho fatto questo non è per errore ma perché avendo saputo della congiura che potrebbe anche fallire volevo provare in poche parole la mia resistenza al dolore e provare anche quello che potrei essere capace di fare se le cose se le cose vanno male e in effetti come sapete la congiura ebbe successo Cesare venne ucciso ma poi i congiurati furono sconfitti e un'altra scena della vita di Porsia è che lei si suicida in un modo orrendo quando sa della morte di Butto ingoiando carboni ardenti addirittura la terza sto ecco questo è uno dei soggetti vi ho messo questo bassoviglievo di Mosca perché è legato anche forse Camerini e Stensia Ferrara ancora una volta il soggetto che si diffonde nel Cinquecento molto più raramente è quello della donna che si suicida e non questo piuttosto complicato che trovate nel dipinto il terzo soggetto addirittura si è fatto fatica a identificarlo fino alla fine fino ai primi del Novecento perché veniva detto che era una Medea perché è un soggetto molto raro di una donna che ancora che non conosciamo per nome ma che viene detta la moglie di Esdrubel che era un grande generale cartaginese che viene sconfitto da Scipione e nel momento in cui la città viene data alle fiamme o meglio mentre quando la città si arrende chiede a Scipione di salvare la propria vita solo se stesso senza appunto senza riguardo per il resto della città e la donna per lavare quest'onta questo comportamento del marito si getta nelle fiamme di Cartagine appunto conquistate insieme insieme ai due figli questo è l'altro soggetto è un soggetto estremamente raro che praticamente non si ritrova più vi voglio dire che Valerio Massimo mi ho detto che è diviso per capitoli ciascun illustrante una virtù presenta Porzia e la moglie di Esdubale come esempi di forza d'animo mentre Lucrezia è e rimarrà poi sempre un po' il primo esempio di pudicizia di castità ecco da dove arrivano quindi questi soggetti se sono così rari in realtà da due fonti che è in generale l'idea di fare un cicli sulle donne illustri da due fonti anzi da una fonte letteraria e da due fonti figurative la prima è un trattato che Boccaccio scrive uno di quei trattati che scrive nel latino che è il De Mulieribus Claris di Boccaccio che è scritto appunto poco dopo il 1361 lo comincia che ha un grande successo e viene probabilmente tradotto già in affreschi che ci sono perduti alla fine del 300 ma soprattutto è un testo molto apprezzato in forma di codici miniati per cui girano nelle corti italiane questi codici di Boccaccio con le illustrazioni dei fatti delle donne illustri quando addirittura se ne fa una versione a stampa nel 1473 a Ulma di cui vedete un'immagine a destra la diffusione di questa iconografia di donne famose delle storie delle donne famose raggiunge il massimo infatti qui vedete la storia di Lucrezia con lo stupro da una parte e lei che si uccide vedete con due persone che vengono identificate appunto come il marito Collatino e brutto amico di Collatino e parente del brutto successivo che sarebbe stato l'uccisore di Cesare questo ci aiuta molto anche nell'identificare i due personaggi della storia anche proprio quale dei due sia Collatino quello senza barba che vedete a fianco con questa espressione dolente dispiaciuta e il brutto di spalle con la barba l'altra fonte nella diffusione di questi soggetti iconografici sono i cassoni inuziali o forzieri inuziali che sono quei forzieri in cui le donne in cui le donne che andavano a marito portavano nella casa del nuovo marito il corredo il corredo inuziale solitamente erano a coppie e appunto le storie di donne illustri e virtuose e prima di tutte proprio Lucrezia era uno dei soggetti preferiti di questi cassoni qui ne vedete uno fiorentino molto indietro nel tempo attorno al 1400 in cui vedete proprio la storia di Lucrezia con lo stupro il suo suicidio davanti alla famiglia e la cacciata dei re di Roma sulla sinistra vi faccio vedere anche il particolare per farvi vedere quanto è simile ovviamente a Firenze questa storia della donna illustre che col suo comportamento virtuoso fa cacciare i re in un luogo che da sempre era una repubblica orgogliosa ha tutta una serie di connotati politici che non poteva avere in una città signorile in una corte signorile come era quella come era quella di Ferrara tempo dopo la sesta storia come vedete si ripete questo legame con le fonti miniate o a stampa del murieribus illustribus di 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 Boccaccio si ripete per la forza per la porzia non vi ho fatto vedere che il particolare è un po' cruciale del dipinto in realtà la ferita che porzia si fa ed è praticamente invisibile sul piede e come? e invece per renderlo più evidente l'illustratore di Boccaccio fa proprio il coltello piantato nel piede cosa che avviene anche in alcuni cassoni noziali come questo vedete la storia è la stessa le ancelle accorrono e collatino va dalla moglie che ha il rasoio il coltello piantato nel piede come vedete e bene allora per questa ragione si è a lungo detto che questi tre questi tre famenti potessero far parte di cassoni di cassoni noziali in particolare di quei di quei cassoni che Ercole De Roberti aveva dipinto per Isabella d'Este sposano a Francesco Gonzaga in realtà questo non funziona molto perché sappiamo che questi dipinti soprattutto la Tarquini era ancora in collezione estensa i primi del Seicento quindi è improbabile che siano andati fuori corte e siano rientrati e un'altra cosa è che in quell'epoca i cassoni del Quattrocento avevano una plancia erano dipinti con una grande tavola illustrata e non più a diversi compartimenti come si vede come abbiamo visto nell'esempio di Primo Quattrocento quindi un'altra ipotesi che si è prospettata è che questi pannelli fornissero le pannellature di uno studiolo solo che le pannellature di uno studiolo sono in generale molto grandi qui vi faccio vedere un bel esempio che è uno dei pochi che ancora è rimasto è un esempio senese dove i cicli delle donne illustri appunto sull'onda di Boccaccio di questa interpretazione virtuosa repubblicana diciamo erano molto molto diffusi questo appunto è un pannello di un pittore senese che si chiama Guiduccio Costarelli probabilmente dipinto negli ultimi vent'anni del Quattrocento dove si vedono tre donne illustri i po come vedete c'è molta attenzione su questo aspetto appunto della virtù delle donne Ippo Virgo cioè Vergine Camilla Vergine anche lei e la Lucrezia Romana Castissima Ippo è il personaggio di sinistra che vedete che è catturata dai pirati si getta in mare pur di non subire violenza quindi salvando appunto la sua verginità la sua virtù Camilla è la cappa delle amazzoni che tutti conosciamo inavvicinabile da uomo e di Lucrezia Romana abbiamo già parlato ma quindi se non erano cassoni ed erano troppo piccoli perché questi pannelli sono alti almeno un metro mentre le nostre tavole sono di una cinquantina di centimetri che cosa erano? Probabilmente parti degli arredi degli arredi di uno studiolo dello studiolo che sappiamo Isabella aveva in castello un confronto interessante sia dal punto di vista delle dimensioni che della tipologia del soggetto è questo che vedete con quattro dipinti di Mantegna siamo a Mantua dunque i collegamenti sono molto stretti perché Mantegna come vi ho detto era alla corte appunto nel momento in cui c'era Isabella e come sapete dipinge per Isabella importanti dipinti ma anche questi quattro frammenti che inventari dei Gonzaga molto più tardi però ancora ci mostrano nelle collezioni Gonzaga e associati tutti e quattro assieme anche se sono in realtà due dipinti su tela due su tavola e questi hanno dipinti hanno dimensioni molto simili a quella dei frammenti ferraresi che ci sono rimasti e come vedete illustrano le storie di eroine famose dell'antichità per cui si è pensato che essendo Isabella figlia di Eleonora e avendo costituito un suo studiolo si sia ispirata addirittura allo studiolo di cui non sappiamo più nulla di Isabella in castello per le decorazioni minori non i grandi i grandi i grandi pannelli del suo studio addirittura c'è stato è un soggetto che fa che diventa molto popolare intanto vi faccio notare la bellezza di questa che è un'invenzione di Mantegna di questi monocromi su fondi monocromi che sembrano bronzi su fondi di marmo questa è la grande innovazione di Mantegna che inventa questo tipo di pittura perché sa che sarebbe piaciuta moltissimo agli umanisti perché si integrava perfettamente con ambienti in cui si collezionavano e si mantenevano anche sculture antiche quindi le cose entravano in relazione tra di loro ma il soggetto viene ripetuto in altri casi voglio dire questo delle donne soggetti di donne illustre poste anche in contrapposizione tipo una Giuditta esempio di virtù e una Dalila che taglia i capelli a Sansone come esempio invece di pericolosità della donna anche in altri cicli che Mantegna fa c'è stato uno studioso Luke Saison che ha anche proposto addirittura che non solo si ispirasse la tipologia cioè piccoli appunto queste piccole decorazioni probabilmente a fianco di finestre o in cornice e cose del genere ma che addirittura proprio Mantegna si sia ispirato anche per le figure allo studio l'ho fatto per Eleonora e vi faccio vedere infatti un particolare della bestale Tuccia a capovolto che secondo Luke Saison riprende volontariamente la moglie di Asdrubal che era un tempo appunto parte del camerino del camerino ferrarese io non trovo così forte la somiglianza mentre mi sembra molto interessante la tipologia e l'uso soprattutto dello stesso tipo di soggetti cioè le donne illustri c'è un'altra cosa che mi sembra interessante cioè che mentre tutti gli studiosi hanno pensato e hanno anche interpretato da un punto di vista del significato generale questa serie di dipinti pensando che questi tre fossero la serie completa perché avete visto l'esempio della spalliera erano a tre molti altri cicli di donne e uomini illustri sono raggruppati a tre a tre i frontali di Cassoni hanno quando sono fatti in vari comportimenti con vari compartimenti tre figure alla volta si è pensato che questa serie fosse completa e addirittura si è provata a ricostruirla sulla base degli atteggiamenti della prospettiva come una serie unica invece secondo me questi dipinti funzionano se funzionano a coppie guardate questi due ad esempio che sono molto simili anche per l'atteggiamento un po' declamatorio delle due figure guardate la tenda alle spalle che si ripiega e prospetticamente si vede in quello di sinistra la parte ripiegata all'indietro a destra e in quello a destra la parte ripiegata a sinistra sono in qualche modo speculari come impostazione prospettica e vanno a coppie mentre il terzo che peraltro ha un fondo di altro colore quindi o lo si mette al centro o sbilancierebbe un po' tutto ha di nuovo la piegatura verso destra e secondo me aspetta un altro un altro dipinto che faccia coppia ma io non sono nemmeno convinto che fossero solo quattro perché se guardate bene la base prospettica delle due figure hanno chiaramente due punti di vista differenti per cui anche questi due che sembrerebbero coppie fatte per essere associati uno ha un piano molto più inclinato uno molto meno e non è questione di taglio perché approfittando delle mostre che servono anche a questo ho proprio misurato siccome sono tavolette che vanno inserite e sono piene di incisioni che ne determinano un po' i limiti e l'inclinatura è proprio diversa perché la costruzione prospettica incisa sul legno è diversa cioè c'è un piano è diversa l'inclinazione dei due dei due dei due pavimenti quindi probabilmente era una serie almeno almeno di sei d'altra parte come vedremo ci sono molti soggetti che potevano rientrare in questa figura questo toglie un po' la possibilità di fare interpretazioni di tipo simbolico basate esclusivamente sui tre soggetti dei dipinti che abbiamo perché potevano essere molto di più e cambiare del tutto il significato visto che ci siamo devo dire anche che questi dipinti non hanno mai avuto una grande fortuna critica cioè sono soprattutto dalla scuola italiana dai critici dell'arte storici dell'arte italiane sono sempre stati attribuiti alla scuola soprattutto la Lucrezia di Modena hanno cominciato grandi studiosi come Venturi e Longhi e li hanno seguiti solo recentemente studiosi soprattutto anglosassoni ne hanno rivalutato la tenuta qualitativa e hanno pensato che potessero essere opera di Ercole e de Roberti però con gravi riserve soprattutto sulla Lucrezia che è stato attribuito a uno dei maggiori allievi collaboratori in questo periodo di Ercole che è Mai Neri appunto beh effettivamente guardandoli da vicino è sempre grazie all'utilità e confrontando i due pannelli se ne approfitterete della mostra la materia pittorica è piuttosto diversa intanto non è solo un'impressione della foto le figure sono di formato più piccolo come vedete non sono grandi uguali e questo può darsi che dipenda anche da una loro collocazione prospettica diversa e poi se guardate quello sfondo quel panno di sfondo nella porzia a destra è meraviglioso si vede tutta la texture delle pennellatine è molto bello e anche le pieghe sono pieghe tridimensionali è molto realistica di quando si piega un panno e lo si apre alcune sono concave alcune converse e riflettono la luce in maniera diversa il panno della Lucrezia sotto è una superficie un po' ottusa poco rispondente alla luce con delle righe tirate in scuro come vedete non hanno nessuna tridimensionalità in più osservandola anche con la restauratrice Modena abbiamo notato che la quadrettatura che è sul fondo che è incisa cioè le linee delle pieghe sono prime incise sul legno poi eseguite sono diverse quindi c'è stato un qualche cambiamento che noi non sapremo neanche spiegare ma insomma rispetto alla forma progettata sulla tavola è stata dipinta in maniera diversa e io anche un po' sospesto che questa quadrettatura oltre a movimentare un po' lo sfondo forse sia potuta servire anche come quadrettatura per riportare un disegno di un maestro che abbia ovviamente Ercole de Roberti che abbia fatto un disegno generale che poi si sia fatto aiutare dagli aiutanti degli assistenti per fare la serie delle tavole come avveniva normalmente insomma in queste operazioni in queste grandi cantieri decorativi quindi una parte soprattutto anglosassone ritiene che i dipinti siano in buona parte con qualche riserva per la Lucrezia dipinti da Ercole e di Roberti gli italiani mi sembra che rimangano più scettici sicuramente c'è una distanza qualitativa la porzia secondo me è molto bella è diventata come avete visto anche l'immagine il logo il logo della della mostra ed è la parte forse qualitativamente più bella la Lucrezia meno la 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 moglie di Esdrubale siamo siamo un po' tra i due ma bella ed è quella soprattutto su cui si è sempre si è sempre basati chi sostiene l'autografia di Ercole e Roberti per dire appunto sulla base di confronti che è opera di Ercole e Roberti perché ricorda molto da vicino questa figura che è una figura che sta all'estrema destra di uno dei due pannelli di Dresda esattamente di Dresda e che ricorda molto l'impostazione però potrei dire che questo potrebbe dipendere dal disegno più che dall'esecuzione pittorica allora mi soffermo un attimo su queste due che sono le più belle e qui siamo a un momento veramente importante cioè questi soggetti forse ci ci risultano un po' banali scontati ma in realtà il fatto di pensare a un teatrino di questo genere un palco in cui una donna tiene la scena e due uomini a fianco appunto le fanno da comparsa è estremamente innovativo alla fine del Quattrocento qui ci sono due donne ovviamente questi dipinti essendo stati dipinti quasi sicuramente per onore d'Aragona anche se non abbiamo prove e raffigurando virtù femminili sono stati recentemente anche una delle ragioni della loro fortuna studiate da tutta una critica che si occupa adesso della committenza femminile i women's studies come si dicono in Inghilterra cioè lo studio della storia delle donne addirittura la critica femminista ci ha lavorato molto su queste cose e effettivamente sono figure c'è una una studiosa la Cox che ha proprio detto che sono molto importanti perché le donne vengono anche rappresentate in atteggiamenti declamatori soprattutto la porsia hanno degli atteggiamenti estremamente dimostrativi nei confronti degli uomini che le guardano ed è una cosa molto nuova se pensate noi siamo un po' abituati alle vignette diciamo della settimana enigmistica con la moglie chiaccherone e il marito che ascolta in silenzio ma in realtà la consegna del silenzio del non parlare in pubblico eccetera era fortissima per le donne del quattrocento quindi far vedere delle figure femminili che parlano così apertamente su un palcoscenico e delle figure maschili che le ascoltano con aria contritta vedete persino un po' quasi un po' cari carturale questi due mariti con la bocca rivolta all'ingiù è assolutamente nuova e sarebbe impensabile se tutto non orbitasse intorno alla figura di una donna come Eleonora d'Aragona ci sono diverse interpretazioni ma credo di starvi già più tardi ma è tardissimo scusate l'ho tenuta lunghissima ci sono addirittura delle interpretazioni usate su altre fonti che pensano che tutta questa serie sia una rampogna nei confronti dei mariti e che quelle espressioni non siano espressioni di dolore per ciò che sta accadendo ma di sentirsi colpevoli ed è una tradizione come gli anglosassoni ha notato che deriva dalle storie parallele di aiutatemi i miei parallele del greco di Plutarco grazie che a Ferrara era un centro di traduzione di questo a iniziare insomma vengono tradotte dal greco al latino sono molto lette e in Plutarco c'è molto forte questa storia che la Lucrezia si uccide ma in un certo senso evidenziando come sia stata stuprata per colpa del marito perché il marito si era vantato della virtù di Lucrezia aveva portato Tarquinio il figlio di Tarquinio a vedere quant'era brava e bella sua moglie e Tarquinio poi la notte successiva era tornato e l'aveva violentata e nel dialogo che Plutarco riporta questa cosa emerge chiaramente e pensate che attraverso Plutarco emerge in Shakespeare che nel Giulio Cesare ha proprio questo discorso di Porzia che condanne il marito di Lucrezia scusate Porzia lo stesso rimprovere il marito di averla tenuta all'oscuro di averla tenuta all'oscuro del complotto per uccidere Cesare trattandola come una semplice concubina e non come una compagna che poteva essere una congiurata e anche questo dunque una molteplicità di significati che dipendono dalla cultura che uno aveva non sappiamo quale fosse la fonte alla quale si ispiravano ma dipendeva dalla cultura che chi guardava leggeva un altro molto importante ma vado davvero più in fretta adesso un altro molto importante che vi ho detto che Eleonora d'Aragone era figlia di Ferrante Ferrante d'Aragone il quale è l'inventore dell'ordine dell'ermellino e aveva come motto ma lo mori quam fedari che vuol dire preferisco morire che essere disonorato che sporcarmi e l'ermellino animale bianchissimo era appunto il simbolo di questo e almeno due delle figure che noi conosciamo di questa serie possono avere proprio come soggetto questo fatto preferisco la morte al disonore così è per la moglie di Esdrubale sicuramente che anzi lava l'onta dell'atteggiamento fellone diciamo vigliacco del marito così è per Lucrezia che lava l'onta della violenza subita uccidendosi non torna molto per la porzia in realtà io trovo un po' dubbio che per quanto questi soggetti siano stati fatti per un camerino privato visti da gente che la moglie di un duca faccia proprio una serie in cui praticamente rimproveri il marito addirittura in cui c'è una figura che ha un capo condottiero appunto la moglie di Esdrubale che ha una condotta moralmente discutibile mi sembra questa un'ipotesi sinceramente un po' discutibile c'è un testo fondamentale però che viene scritto a Ferrara che viene ispirato proprio dalla presenza di Eleonora d'Aragona ed è questo dell'audibus mulierum di Bartolomeo Goggio scritto nel 1487 cioè proprio quando tra l'altro Ercole de Roberti torna torna in città e che dice esattamente cita Lucrezia Sofonisma Porzia Veturria e le altre come esempi di matrone famose per la loro costanzia ed fortezza due di queste quattro sono raffigurate nell'esempio nei pannelli che ancora abbiamo del camerino di Eleonora questo Bartolomeo Goggio era un cortigiano di Eleonora d'Aragona e quindi è probabile che sia l'ispiratore del ciclo può darsi che alcune parti si siano perse si fa anche notare che Sofonisma era anche lei la moglie di un generale cartaginese che nel momento in cui la città viene conquistata riceve dal marito del veleno e si uccide bevendo il veleno piuttosto che cadere che cadere preda preda del nemico e quindi rientrerebbe rientrerebbe perfettamente in questo genere uno studioso tedesco che probabilmente anzi forse inglese di cosa anche se tedesco dire Gundersheimer che ha scritto libri importanti su Ferrara ha definito il testo di Goggio un testo femminista in questo caso è proprio vero perché c'è una grande novità nel testo di di Goggio che non dice come abbiamo letto prima che ci sono state grandi donne in un genere che era debole ma sostiene proprio la superiorità per alcuni versi e per alcuni aspetti del genere femminile dicendo che le donne appunto erano più costanti cioè riuscivano a mantenere una una fermezza morale più a lungo e che la forza non era da intendersi solo come forza fisica ma come forza morale che comunque entro la forza fisica c'era anche quella di resistere alla tentazione in cui secondo lui le donne erano molto più brave degli uomini non c'è non c'è dubbio che sia un ritratto che si attaglia esattamente sulla figura di Eleonora d'Aragona che tiene che tiene nei momenti di difficoltà del Ducato ed è molto interessante che attorno a queste cose ci siano una serie di trattati tra fine 400 e primo 500 e che nascono proprio tra Ferrara e Mantua in ambienti che sono legati alla corte sia estense che a quella di Isabella d'Este a Mantua appunto e quindi legati sempre un po' alla figura di Eleonora d'Aragona però io vado un po' più in fretta perché voglio farvi dire un'altra fonte che secondo me è sempre stata un po' poco considerata e che invece è molto importante che sono gli scritti di San Girolamo che in un suo trattato contro un eretico adverso su Iovignanum è un po' ossessivo su questa cosa di San Girolamo sono tutti legati all'aspetto della castità femminile soprattutto appunto di donne sposate e di vedove che non avrebbero dovuto sposarsi una seconda volta quindi questo trattato è un è un trattato proprio in buona parte in difesa della castità delle donne sposate o delle vedove e menziona Lucrezia come il più celebre esempio fra le matrone romane virtuose fra le quali di seguito in questo trattato compare anche Porzia mentre la moglie di Asdrubale quindi sarebbe il secondo testo in cui tutti e tre compaiono figura invece tra le figure esemplari di vedove voi vi chiederete ma verso un viominiamo chi lo leggeva che è un testo appunto però Girolamo era un padre della chiesa ed era un testo che veniva aggiunto molto spesso alle epistole di San di San Girolamo che buona parte delle quali avevano lo stesso soggetto appunto comportamenti morali delle donne e che era uno dei testi più letti del Quattrocento e che infatti troviamo nella biblioteca estense di Eleonora d'Aragona e anche di di Ercole di Ercole l'altra è appunto una di queste lettere l'epistola a Geruchia che era una vedova e che San Girolamo esorta a non risposarsi dopo essere rimasta vedova e come vedete cita proprio alcuni degli esempi un breve accenno per la regina di Cartagine che preferì bruciare su Rue questa è di Dona è la lettura cristiana positiva di Ridone mentre c'è neanche una negativa c'è la sposa di Asdrubale e c'è Lucrezia allora San Girolamo potrebbe essere una delle fonti per questo per questo ciclo stranamente perché non è un ciclo religioso no una cosa rafforzata dal fatto che alla fine del Quattrocento nel Quattrocento novantasette uno dei libri più belli in Cunaboli si chiamano questi libri quattrocento che viene stampati a Ferrara è un'edizione delle lettere delle epistole di San di San Girolamo che appare con diverse dediche una di queste che vedete qui davanti ha una dedica proprio a Leonora d'Aragone e Isabella ad Este a quest'epoca è già morta perché siamo nel Quattrocento novantasette ed è una traduzione in volgare delle epistole di San Girolamo ce n'è un'altra dedicata anche a Ercole a Ercole I in questa edizione c'è una prima parte con la vita di San Girolamo poi le epistole e poi molto importante una serie di precetti dedicati a monache tratti dalle epistole di San Girolamo su come comportarsi correttamente e sulle regole che dovevano tenerle monache questo è molto importante se pensate come la coppia ducale Ercole e Leonora d'Aragone abbia stimolato la nascita di monasteri femminili che risolvevano sia il problema delle donne da marito che appunto erano delle donne che non si sposavano e a cui bisogna trovare una collocazione socialmente accettabile ma soprattutto nell'organizzazione della nuova città che era già partita tutti i monasteri sia maschili che femminili erano fondamentali per l'articolazione di questi ambienti ed è molto interessante che gli stessi legni cioè le decorazioni che vengono usate nello stesso 1497 per le lettere di di San Girolamo siano usati anche per il libro di Jacopo Foresti da Bergamo sulle donne illustri scritto in quello stesso anno 1497 che per la prima volta mette tra le donne illustri visto che ormai era morta anche la stessa Eleonora d'Aragona ora qui vi faccio una proposta e io credo che la Lucrezia sia un ritratto di Eleonora di Eleonora d'Aragona mi sembra strano che nessuno l'abbia notato infatti probabilmente sbaglierò ma invece mi sembra che abbia tutti i caratteri fisici di 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 Eleonora guardate la descrizione che ne fa un dedio da Vitale nella sua cronica destatura bassa e piccola grassa e grossa lo volto largo collo curto non era una bellezza più bruna che bianca la bocca piccola l'occhio negro e piccolo non molto pomposa del vestire aveva lo naso piccolo non poco rivolto in suso e lei è uguale cioè poveretta tanto più che è strano che uno faccia una Lucrezia che aveva sì la virtù come primo ma l'altra era la bellezza perché Tarquinio la strupa perché non riesce Tarquinio VI perché non riesce a resistere alla sua bellezza ora sono più belle le altre due voglio dirne la figura cioè e lo stesso Ugo Callefini nei suoi diari proprio festeggiamenti del matrimonio di Eleonora dice ballando madonna sua signoria aveva i capelli nigri secondo che si usa Napoli zoso per le spalle e poi la corona in testa ma questa era un'usanza che a Ferrara non c'era a quell'epoca anzi c'è un studioso che ha scritto proprio un saggio sul fatto che la nobiltà ferrarese era sempre rappresentata con i capelli biondi e si schiarivano perché il modello era nordico ancora ma da quando arrivano le corti napoletane anzi sono proprio questo me l'ha detto una studiosa di adesso domani avrete cioè la prossima settimana avrete proprio una cosa sulla moda quindi non sto a disquisire ma spero che confermi quello che mi ha detto Elisabetta Gnignera che è la studiosa di moda a cui ho chiesto per confermare questa possibilità che fosse Eleonora la persona raffigurata come Lucrezia mi ha detto che questa cosa dei capelli mori e in quel caso si tingevano di moro viene diffusa proprio dagli aragonesi quindi dalla famiglia e da Isabella che va a sposa che no scusate Isabella l'altra figlia di la Beatrice che va a sposa a Milano e in porto una moda di tipo napoletano a Milano e così vale per questo tipo di copricapo ma non vado avanti perché ve lo spiegherà molto meglio la prossima settimana Goretti come si chiama? non ricordo più come si chiama Paola Goretti Paola Goretti guardate anche questo questo confronto con la Lucrezia con la figura rappresentata nel compianto in terracotta che è sicuramente Eleonora d'Aragona sono uguali ed è interessante che chi ha rivalutato il dipinto della Lucrezia dica c'è un naturalismo molto forte che non c'è negli altri secondo me è un naturalismo perché questo è un ritratto è meno bello ma è più naturalistico perché? perché vuole essere un ritratto e la vedete ancora confrontata vi ho detto prima il libro di Filippo Foresti sulle donne illustri in cui per la prima volta essendo morta compare compare Eleonora e compare in questa forma qui che ancora una volta somiglia molto alla Lucrezia queste sono cose che hanno già trovato altre studiose non è farina del mio sacco compreso il fatto che in quello stesso libro pubblicato a Ferrara nel 1496 la storia di Lucrezia la vignetta che illustra Lucrezia a questo punto si è invertito non è più la miniatura che serve da fonte per il dipinto ma è il contrario si ispira chiaramente è piuttosto brutta l'incisione ma si ispira chiaramente al dipinto appunto che era Ferrara e anche gli abiti in questo punto rimando alla prossima volta ma chi si intende di moda mi dice che mentre gli altri due sono il classico i due a lato sono i classici abiti all'antica cioè come nel 400 si immaginavano vestiti antichi anche se con chiari particolari contemporanei come le maniche di broccato della porzia sulla destra quello al centro indossato da Lucrezia Barra Eleonora è un classico abito napoletano della fine del 400 sia come acconciatura dei capelli che come le strisce che diventano di moda che una volta anzi erano il segno della vergogna ma diventano di moda che è una serie di altri particolari ma passo passo oltre e a questo punto mi rimane poco per dirvi che in questo stesso studiolo in cui stavano questi tre dipinti di Eleonora stanno alcune stava anche quest'opera che ora vediamo in forma di dittico distaccato ma che era in origine un libretto ricoperto di velluto cremisi ci sono rimaste ancora le tracce e che sappiamo per certo era parte di ciò che Lucrezia che era collezionista aveva nello studiolo cioè questo dittico ricoperto di velluto cremisi con le fibbie d'argento quindi come se fosse un libro che si apriva serviva e serviva proprio alla meditazione alla meditazione della duchessa e faccio notare come in questo la natività sulla sinistra d'accordo ma sulla sinistra ci sia un'associazione di scene che sono visioni probabilmente tutto è una visione di San Girolamo ancora una volta che compare che compare molto molto importante e potrebbe andare a confermare c'è una studiosa Lia Clark che ha scritto un testo molto bello su questo dipinto guardate il paesaggio il paesaggio è un dittico ma vedete continua da una parte all'altra c'è una concezione del paesaggio continuo è un dipinto che si ispira alla pittura di Bellini dei Veneti e che ritorna in questa bellissima opera che la galleria Estensi hanno comprato da poco molto robertiana e nello stesso tempo belliniana con cui vedete è un trittico ma il paesaggio più o meno continua dalle due parti e che è stata recentemente scoperta e attribuita da De Marchi al giovane Mai Neri quindi lo stesso autore che dovrebbe aver dipinto secondo alcuni la Lucrezia e che è esposta in Pinacoteca tuttora fa parte del progetto che anch'io vi invito del percorso che anch'io vi invito a visitare in Pinacoteca ed invito il 10 maggio a venire a sentire la conferenza su in Pinacoteca di Andrea Da Marchi che illustrerà illustrerà questo dipinto vabbè forse però ecco voglio almeno chiudere con questo strepitoso strepitoso vabbè sono anche questa queste sono due madonnine che probabilmente iniziano nel periodo ferrarese di Ercole De Roberti la mostra l'è data prima Michele Danieli è convinto che sia una cosa ancora bolognese la maggior parte dei critici è un po' anch'io pensano che questo potrebbe già essere del primo all'arrivo a Ferrara vedete in 10 anni l'evoluzione stilistica notevole se è così che ha fatto Ercole De Roberti perché quest'ultima madonna invece che è proprio degli ultimi anni a destra questa impostazione prospettica ma soprattutto questa luce questa pittura completamente diversa e qui abbiamo il capolavoro in cui come disse Longhi davvero Ferrara è un quadretto come l'abbiamo visto grande così è una piccola cosa ma Longhi lo paragonava addirittura all'ultima cena di Leonardo dicendo che proprio grazie all'ultimo Ercole De Roberti che è una scoperta di Longhi a Ferrara perché lo riscopre scrivendo l'officina ferrarese noi togliendo a De Roberti una serie di dipinti che gli erano attribuiti in maniera sbagliata e facendo vedere quando fossero grandi gli ultimi anni ferraresi di Ercole De Roberti appunto ha rivalutato questo artista portandolo tra i massimi vertici della pittura del 400 di tutta Italia io mi scuso per questa conferenza un po' così spero che abbiate spero che abbiate però trovato qualcosa di interessante anche ringraziamo il dottor Tofanello per questa lezione molto piena di suggestioni anche di informazioni interessanti la proposta che lancia è super condivisibile pur non essendo io un esperto di pittura a Ferraresi a stritto senso se un altro perché è suffragata da evidenze iconografiche iconologiche ma anche cronicistiche letterarie quindi è sicuramente come dire un punto per riconsiderare questo dittico che potete ammirare in mostra nella sala 8 insieme a tutte le opere della maggior parte insomma quelle che sono pervenute fino a noi del periodo ferrarese interessantissimi anche questi legami con delle sollicitazioni extra figurative quindi con le cronache con la letteratura antica o contemporanea a Ercole che proprio quando lui arriva a Ferrara diventa più stringente più importante questo rapporto e questo ruolo che assume in seno la corte facilita molto anche il suo ingresso con una consuetudine allo studio anche grazie all'entourage molto molto preparato degli eruditi che appunto gravitavano insomma attorno a Leonora e a Ercole ora se avete suggestioni delle curiosità delle domande il dottor Tofanello è a disposizione mi viene in mente a proposito di Eleonora d'Aragona che definì donna bestiale la povera polissena ad este che essendo stata sposata a un Romei mi pare più di 40 anni più vecchio di lei si rompe le scatole scappò con un uomo d'arme insomma come dire si ricollega insomma questo personaggio anche non solo anche negli affreschi di Schifanoia ci sono scorci che suggeriscono un ambiente abbastanza licenzioso quindi insomma forse proprio c'è questa caratteristica di messaggio etico da la Corte poi mi chiedevo se diretta non potesse questa lista è di più di 100 biografie femminili si si forse perché mi ho detto come fonti iconografici prima ma certo sì sì d'accordo eppure credo che la superiorità delle donne la Gian Musonio Rufo eccolo ma potrei sbagliare della superiorità delle donne è un dibattito che si apre molto scusami l'ho interrotta prego è un dibattito che si apre molto sulla fine del 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 quattrocento e che è interessante che abbia qual è il il fatto il fatto è che nelle società signorili, questa è la differenza, le donne hanno il potere, il caso di Ferrara è esemplare, queste arrivano, si formano con un buca, ma lei arriva qui e scrivono due trattati su come si regnano, sono donne che sono abituate a tenere anche il potere e sono abituate, è interessante anche dal punto di vista della Corte, perché da un po' si dice che non si dovrebbe più parlare di arte di corti ma delle corti perché all'interno di una stessa corte c'erano delle autonomie, ad esempio sappiamo, sempre da uno studio di Wundersheimer che è stato il primo a studiare Eleonora dal punto di vista storico, che lei aveva una sua dotazione ovviamente molto grossa, non mi ricordo quando fosse la cifra, ma di spesa mensile che spendeva in arte, oltre ad avere artisti sotto il testo, spesso erano sarti, gioiellieri, perché era questo il tipo di cose che erano più, però avevano anche pittori, il rapporto con Ercole d'Este è evidente, cioè della documentazione che abbiamo, molti pagamenti sono fatti da Eleonora ad Ercole, va anche detto per quanto riguarda questa moralità, moralismo molto forte di Eleonora, che Eleonora è anche probabilmente quella che fa cacciare, sapete che nel 1494 mi pare Ercole de Roberti viene cacciato da corte perché accompagnava nelle bisbocce il giovane Don Alfonso che già dava i segni di essere sanguigno insomma, per cui lo allontanano da corte perché, dice altrimenti, qui il giovane principe è sempre in giro con Ercole de Roberti e altri, Fabi Sbocce e io sono convintissimo perché tutta la letteratura moderna, che è molto giusta e che evidenzia su questo fatto delle donne e dell'importanza di Don Alfonso e di questo ciclo, hanno studiato in un piccolo ciclo di tavolette che dicevo, evidenzia molto gli aspetti del potere femminile che in effetti sono molto importanti perché la cosa che viveva una donna che parla e gli uomini che ascoltano è una cosa che a noi sembra scontata, forse non tanto per la verità, ma insomma che nel 400 era appunto addirittura al contrario delle norme morali stabilite. Però c'è un altro aspetto che la critica moderna invece considera poco, compreso Manca, che ha scritto appunto questo saggio dicendo che queste tre tavolette servivano a mostrare la constanzia e fortezza che viene, che appunto il nostro, come si chiama quello? Scusatemi, quello che scrive a Ferrara sulla superiorità delle donne, Goggio, porca miseria, scusate i nomi se non li leggo ormai, che Goggio sostiene, appunto, in realtà ce ne metto una terza che la critica moderna non mette più perché è un po' fuori moda, ma è la castità, perché c'è poco da fare, la funzione ancora principale un po' delle donne, ma soprattutto di una duchessa, era la continuità dinastica, dinastica, e certo, quella era la cosa fondamentale, e la castità che vuol dire fondamentale era non sporcare, non inquinare, inquinare, nemmeno con rapporti extramatrimoniali, questa possibilità. Questo era fondamentale, ricordiamoci che l'onora questa donna forte, però muore e si fa seppellire in saio da monaca, piedi scalzi, nella nuda terra, e non vuole nemmeno che suonino le campane. Quindi questo aspetto religioso è fortissimo, e lei è una donna del suo tempo e ragiona ovviamente dentro quell'ottica. Volevo fare un'altra osservazione, scusate che mi è sfuggita. Questo trattato di Goggio, che sembra rivoluzionario, rimane manoscritto, il manoscritto sappiamo che era nella biblioteca di Eleonora, perché era lì, rimane quindi un codice manoscritto, e probabilmente è lo stesso manoscritto che adesso è alla British Library, in forma di manoscritto. Quindi queste cose non vengono stampate. Poi Goggio pensava davvero questo, era un cortigiano, era un cortigiano, lo scriveva per compiacere Eleonora, era Eleonora stessa che stimolava e quindi aveva una capacità anche di elaborazione, di autocoscienza diremmo adesso, o semplicemente il cortigiano per compiacere guadagnarsi lo stipendio scrive questo testo che rimane poi manoscritto, insomma, e ha una diffusione nulla, perché il resto sono appunto testi che dicono quanto sono gentili, quanto sono belle, come alcune donne siano straordinarie, tanto da levarsi al di sopra del loro genere. questo è il... cioè Elisabetta prima d'Inghilterra viene ancora presentata così, uno spirito maschile in un corpo femminile, Artemisia Gentileschi per dire un eroino del femminismo attuale, si meravigliava con stampato bravo a dipingere, pur essendo una donna, cioè questo è ovviamente il tenore ancora per molti secoli. Bene, allora ringraziamo ancora Marcello e ci diamo appuntamento a giovedì 4 maggio. Grazie.